Come libro ho scelto di donare il mondo di Sofia che è un libro molto importante per me e che penso che possa essere una grande introduzione alla filosofia in modo però molto semplice perché tramite una storia vincente riesce a portarti dentro alle basi principali della filosofia e penso che possa aiutare come ha aiutato me un sacco di ragazzi ad iniziare ad avvicinarsi alla filosofia per poi appunto avere delle basi quando inizieranno a studiarla veramente a scuola Grazie a tutti